Buon pomeriggio e benvenuti a Caserta Sera Stadio, l'appuntamento del dopo partita con le interviste sulla gara, sul derby di oggi fra Life e Piedimonte Treppini e per sapere come è poi finita la partita. Prima la sigla e poi subito dopo ci ritroveremo per il risultato e le interviste di Valentina Monte con i protagonisti della gara che vedo già in attesa negli spogliatoi. Intanto mandiamo in onda la sigla. Rieccoci di nuovo in studio, andiamo a sentire immediatamente e a vedere naturalmente Valentina Monte con i protagonisti della gara di oggi, dallo stadio Spinelli, Marco Spinelli di Alife e esattamente dallo spogliatoio dell'Alife, a te Valentina. Alife Treppini, una derby tanto atteso dai tifosi, concluso 5-0 per il Treppini. Mister Detato, cos'è che è mancato effettivamente a questo Alife oggi? Io ho visto, diciamo, da parte del Treppini più voglia secondo me, forse secondo me stavano anche meglio fisicamente perché praticamente ogni rimpallo, ogni pallavacante era praticamente la loro. Io non posso, mi dispiace per i ragazzi, non si meritavano questa batosta. e sappiamo benissimo il valore del Treppini comunque, che è una squadra che è superiore. Noi puntiamo sui giovani, cerchiamo di far crescere questo gruppo e fare il meglio che possiamo dare a questo campionato, dare il meglio a questo campionato. La speranza è di salvarci il prima possibile. Ora verrà il Termoli, che recuperiamo mercoledì, lì e per noi sarà una partita più alla portata secondo me. Esatto, infatti la settimana prossima dovete recuperare col Termoli, quindi magari sarà un buon risultato. E noi lo speriamo tutti, in primis la società, vogliamo toglierci da prima possibile questo fattore salvezza e poi, casomai, divertirci e far crescere pure qualche giovane con tranquillità. È quello che ci serve. Grazie Mister. Passo la parola al Presidente. Presidente, un Alife che non vuole proprio portare a casa questo Termoli? Eh, purtroppo, proprio il Derby, che è una partita dove i tifosi ci tengono in modo particolare. Una volta per un motivo, una volta per un altro. L'abbiamo persa entrambe le gare, però voglio dire, noi non ci perdiamo d'animo. Il nostro obiettivo è sicuramente la salvezza, come diceva poco a me il Mister, e credo che ci possiamo, lo possiamo centrare sicuramente. E' chiaro che quando si gioca dispiace sempre, quando le partite finiscono in un certo modo, però ci sta. Sicuramente, sicuramente, noi abbiamo patito più degli altri anche la sosta, perché la lunga sosta, pensate che non si gioca dal 12 dicembre, questa lunga sosta sicuramente per noi è stata molto negativa. Io ritengo che sia stata una delle cause di qualche ragazzo che praticamente non ha dato il massimo, non ha reso al massimo e quindi teniamo pure qualche infortunato abbastanza, qualche titolare diciamo infortunato. Speriamo che già da mercoledì la squadra dimostri voglia, dimostri impegno e si incomincia a fare qualche punto, perché poi servirà alla salvezza. Grazie Presidente. Restituisco la linea allo studio. Bene, dallo spogliatoio della Life a quello del Treppini, dove per noi c'è da aspettarci sempre Valentina Monte e naturalmente i suoi ospiti. A te la linea Valentina. Grazie Lorenzo, sono con Mister Palazzo. Mister, allora un risultato più che positivo può ritenersi soddisfatto? Penso che il risultato sia abbastanza positivo, ma credo che al di là del risultato. Abbiamo affrontato bene la prima parte del primo tempo, dove siamo stati anche un tantino avvantaggiati dal fatto di sbloccare la gara dopo appena pochi secondi e poi raddoppiarla dopo un paio di minuti. Però noi l'avevamo organizzata in questa maniera durante la settimana. Di fronte avevamo una squadra ostica, fatta di giovani di talento. Sappiamo che è una squadra ricca di under, quindi hanno un pubblico fantastico. Veramente dei ragazzi al seguito della squadra sono incommiabili. Io sono soddisfatto del risultato, ma nello stesso tempo faccio i complimenti alla LIFE per la sportività e il comportamento dimostrato. Per voi non è solo una vittoria significativa, ma portate a casa tre punti molto importanti per il campionato. Ma sono tre punti importanti se vogliamo ambire, diciamo, perlomeno a giocarci la possibilità di un posto nei play-off. Sappiamo che non è facile perché ci sono squadre che agguerite, squadre che viaggiano lì davanti, che sono anche forse qualcuno un po' organizzata più di noi. Noi abbiamo tanti giovani, io lo dico dal primo giorno, tanti giovani di qualità, giovani che sono bravi sotto l'aspetto tecnico, ci manca un tantino di esperienze e poi lì davanti abbiamo questo ragazzetto che fa 3-4 gol a partita, quindi Daniele ci dà qualcosa in più. Invece per la prossima partita? La prossima partita bisogna vedere innanzitutto la situazione meteo perché, diciamo, dobbiamo andare a Riccia mercoledì, ma siccome sono della zona, quindi c'è neve, mette altra neve anche da domani fino a sabato, credo che difficilmente giocheremo, quindi penseremo poi a questo da martedì e se nel caso non si giocherà penseremo a sabato al sesto campano, credo. Grazie mister, restituisco la linea allo studio. Bene, se non c'è altro la nostra trasmissione termina qui. Grazie a tutti voi, a quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questa trasmissione, alla regia e naturalmente a tutti voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!